Soprattutto adesso, dopo questo periodo così particolare, secondo me è molto molto importante non perdere più tempo, diciamole queste cose, a tutte le persone alle quali vogliamo bene. E quindi, cosa ne dite? Facciamolo. Facciamo in modo che queste cose vengano dette. Scusami perché sono quella stronza che non cambierà per te. Ti ricordi di me le notti a camminare, un po' stanchi e felici sulle strade romane, forse avrei dovuto solo chiedermi se c'è una strada dove continuare senza te. So che un po' da stupidi fare finta di niente perché è ad aspettare dei miracoli. Ci togliamo i secondi e non c'è più cura per riprenderli. Preferisco galleggiare sopra i miei pericoli con la testa verso il sole. Scusami Grazie